salve a tutti rieccoci in un altro video dove vediamo all'opera tal il mago di riga quindi parliamo di uno spettacolo sul palcoscenico oggi abbiamo michael tal e paul benko partita che si giocata a belgrado nel famosissimo terreno di candidati secondo me il migliore di sempre del 1959 l'anno in cui tra l'altro tal aveva battuto fisher con un 4 a 0 vinse il torneo poi anche il mondiale l'anno successivo contro il patriarca botvinic nel 1960 diventando l'ottavo campione del mondo della storia e anche il migliore attaccante di sempre infatti oggi vedremo anche una sua una sua ennesima qui direi prova d'attacco il suo avversario come ho detto è paul benko che ha deciso di utilizzare una variante della difesa siciliana poco utilizzata ma ho scelto pure di trattare questa partita giusto per ripassare sempre questa linea di quale variante sto parlando lo vediamo subito allacciamo le cinture con tale che avremo tatticismi vertiginosi partiamo bianco qui apre con e4 come ho detto benko imposta una difesa siciliana che faceva parte proprio il suo repertorio anche se più o meno a quei tempi veniva iniziava essere sempre più in fuga quindi fino a oggi nel repertorio di tutti c5 cavallo f3 tal quindi propone una siciliana aperta la sua intenzione è quella di spingere poi un d4 come in tutte le linee e qui sappiamo come le famiglie più frequenti della siciliana siano tre quelle con cavallo c6 controllando la casa d4 d6 la linea più frequente oppure anche e6 dove si può rientrare in altre varianti come la polsa e la timer o la can e anche altre un po meno meno appariscenti invece qui pol benko ha preferito aprire subito il fianchetto con g6 questa è la variante del dragone iper accelerato perché siamo solo la seconda mossa e il nero decide già di creare subito quella che viene chiamata la costellazione proprio del dragone l'obiettivo è sempre quello di controllare il centro da lontano con i pezzi leggeri quindi fianchettare in g7 controllare la casa d4 compito che viene già svolto dal pedone non è poi una linea che viene spesso utilizzata i risultati non sono poi così favorevoli al nero ma comunque ci sono tantissime partite anche vinte con questa variante proprio dal nero tal qui va avanti con d4 quindi il piano del bianco non deve assolutamente cambiare poi tra l'altro ho fatto anche un video sulla per se volete approfondire sul dragone proprio ho scelto di radunare il dragone normale accelerato e iper accelerato nello stesso video che trovate nella playlist sulla teoria e sull'apertura chiusa parentesi d4 tal dimostra di volere subito controllare il centro occupandolo qui nella teoria il nero solitamente prende in d4 in maniera veramente elementare c per d4 tanto il cavallo poi ricatturando si deve portare al centro e a quel punto lo si può subito attaccare o con cavallo c6 oppure seguendo quello che è lo spirito più pieno dell'apertura con alfiere g7 e andare subito a molestare il centro il cavallo ma il centro in generale del bianco perché il nero mantiene due pedoni centrali questo ricordiamo che è lo scopo standard della difesa siciliana che è molto aggressiva alfiere in g7 qui tal preferisce difendere il pedone non catturando quello avversario per mantenere giustamente direi la copia di pedoni centrali lui stesso l'ha detto prima viene il tempo lo spazio e solo dopo il materiale e quindi va avanti con d5 qui d6 allo scopo di bloccare questa non dico pericolosa comunque abbastanza imprevista avanzata del pedone di donna del bianco qui cavallo c3 e la posizione comunque ricorda quella anche della difesa benoni che lo stesso tal tra l'altro utilizzava spesso con il nero con un centro leggermente sovraespanso da parte del bianco qui però bisogna assolutamente mantenere la calma razionalità e andare avanti nello sviluppo siamo in apertura quindi cavallo f6 liberando la strada fra il rettore per un arrocco corto alfiere b5 scacco questa è un po' una differenza ma anche in generale caratterizza la maggior parte delle varianti ma soprattutto il dragone iper accelerato perché il nero non avendo giocato a6 che è una misura di profilarsi poi in altre varianti spesso anche come di sostegno per costruire un attacco tra parentesi la variante naidorf su tutte il bianco è libero di poter sviluppare l'alfiere in b5 quindi riuscendo a dare scacco cavallo in d7 quindi ci sono problemi per benko che decide di interporre e comunque sviluppare questo cavallo qui si va avanti con a4 andando a solidificare la posizione arrocco corto per entrambi tutto rimane molto tranquillo benko scaccia anche l'alfiere con a6 tallo resistemme nei due torre b8 qui iniziamo subito pian piano a focalizzarci su quelli che dovranno essere i piani di entrambi i giocatori torre b8 qui benko dovrà costruire una sua iniziativa poi vedremo se sarà un gioco o molto più probabilmente un contro gioco quello del nero con con la spinta b5 infatti qui a6 serviva sia a scacciare l'alfiere ma benko qui pian piano in maniera molto mentalmente elastica deve subito cogliere le occasioni qui con a6 mi pare chiaro che una spinta b5 che poi il punto cardine generale della difesa siciliana cioè andare a attaccare a costruire il proprio gioco a ovest e ci sono proprio tutti tutte le regole da seguire nella difesa siciliana con b5 in pare ovvio che sia una spinta ancora più efficace in questa partita per il nero ed è per questo che benko decide di far collaborare pian piano tutti i pezzi allo scopo di effettuare questa spinta per aprire le linee soprattutto perché finora il gioco è totalmente chiuso visto che non sono avvenuti neanche dei cambi di pedoni che è molto atipico per la siciliana bene peccato questa casa sia controllata per ben tre volte dal bianco il pedone cavallo e lo stesso alfiere quindi comunque serviranno adeguati rinforzi per paul benko tal tranquillamente va avanti con lo sviluppo centralizza la torre poi dovrà pian piano sistemare anche alfiere delle case scure in e3 in f4 la soluzione migliore poi magari creare una batteria e benko adesso dal punto di vista parliamo un po più strategicamente deve trovare tutti i sostegni necessari alla spinta del pedone in b5 e direi che il pezzo caricato deve essere sempre risparmiando il tempo ovviamente il cavallo in f6 quindi lui lo risistema adesso in e8 che è una collocazione passiva ma l'idea è quella poi di piazzarlo in c7 per permettere un po più maniera disinvolta la spinta definitiva in b5 alfiere f4 tal invece concentriamoci sui piani del bianco deve attaccare assolutamente a est quindi danneggiare l'arrocco ma certo per tal non era neanche così complesso cavallo c7 finalmente b5 è una spinta imminente qui tal ha giocato una mossa abbastanza bizzarra come alfiere f1 piuttosto che procedere subito con donne in d2 come indica la teoria tra l'altro alfiere f1 non comporta grandi cambiamenti poi vedremo quali saranno anche le mosse seguenti anche per lo sviluppo dello stesso alfiere fatto sta comunque che sembra quasi concedere un tempo qui tal con alfiere f1 piuttosto come ho detto magari combinare donna d2 su questa diagonale per sfianchettare in h6 e favorire anche la centralizzazione dell'attore questa sarebbe stata la manovra ideale lui preferisce alfiere f1 quindi b5 benco va avanti subito quindi la siciliana bisogna sempre saper giocare bene sul tempo donne in d2 formando la batteria in questa diagonale delle case scure e adesso arriva torre 8 forse un po' non mi aspettavo la parte di benco qui l'idea più pungente sarebbe stata quella di spingere ancora con b4 perché il cavallo veniva costretto a indietreggiaro comunque peggiorare la propria posizione sia con cavallo e 2 che comportava alla perdita del pedone in seguito alfiere per b2 attaccando anche la torre oppure l'altra estremazione poteva essere in d1 per difendere proprio il pedone ma rimanendo più passivo e poi la torre rimaneva un po' ingabbiata la casa 3 occupata dal pedone avversario a casa di uno dal cavallo amico quindi sarebbe stata sempre più pungente soprattutto come adesso parlando sempre in lingua strategica benco invece decide qui di centralizzare la torre che assolutamente andava affatto ma forse non era la priorità assoluta per il nero tal qui gioca h3 cavallo in f6 la spinta in b5 avvenuta il cavallo deve assolutamente rientrare in difesa anche perché tal era giovanissimo aveva 22 23 anni a quei tempi quindi la sua fama era comunque già abbastanza diffusa di attaccante fantasioso spregiudicato quindi subito bisognava rafforzare le difese ma l'alfiero in fianchetto è sempre un ottimo difensore dell'arrocco ma di certo contro tal servivano sempre particolari tensioni torre in d1 centralizzazione al fiere in d7 qui meglio comunque stabilire anche un bel dominio delle case chiare al fiere d7 si rimane sempre in contatto con il pedone in b5 finalmente è diventato un punto di forza per il nero tal a questo punto decide di prendere un po' iniziativa troppo pressante avversaria a ovest per quanto riguarda i pedoni i pezzi comunque il nero se vuole lui può veramente sfondare visto che ha preparato per più mose l'attacco qui a ovest quindi tal decide di andare ad attaccare sul centro quindi prendo subito con i5 benko preferisce insistere col suo piano in b4 la soluzione migliore il cavallo a questo punto può invece mantenersi sempre attivo in e4 quindi ha liberato anche con i5 la casa al cavallo cambio torre per e4 ma non è che sia un grosso pericolo la torre in posizioni così chiuse e ancora troppo presto per rendersi pericolosa ma parliamo sempre di un mago quindi tutta la possibile al fiere per a4 benko riesce a guadagnare un pedone diciamo che l'alla di donna è proprio il suo il suo territorio al fiere h6 finalmente arriva lo sfianchettamento questo è un tema comune sempre in tutte le varianti del dragone basti pensare al famoso attacco jugoslavo contro la variante del dragone normale alfieri in a8 fare di tutto per andare a preservare la coppia degli alfieri torre in d1 qui prepara un raddoppio che poi sarà pian piano sempre più letale e adesso benko gioca f6 una soluzione difensiva particolare per certi versi qui a ovest non si poteva fare poi granché altre spinte qui sarebbero state sterili anzi dannose per cui il pedone comunque risulta inchiodato si rischia di perdere al fiere per entrare nelle tattiche e in cui ci si poteva perdere anche tra grandi maestri quindi f6 andando ad attaccare il pedone centrale tal invece giustamente rifiuta e avanza in sesta dove sarà ancora più difficile da attaccare qui alfiere campo chiaro non può assolutamente fare niente contro il pedone servirebbero troppi tempi poi non è possibile pian piano viene sempre ridotta anche la sua il suo raggio d'azione quindi tal pian piano riesce a mettere fuori gioco i pezzi avversari arriva f5 andando a scacciare la torre allora quale migliore occasione per collocarla nella colonna h qui tanto il pedone già risulta tutto ben difeso la dona qui difende il pedone d5 quindi per sorreggere questa coppia ben sbilanciata giustamente nella metà avversaria alfiere per b2 e qui tal procede con il secondo sacrificio di pedone che poi qui era anche abbastanza diciamo avvelenato quindi benko ha lasciato completamente sguarnita l'ala di re dire che tal pian piano può procedere con dei con grandi combinazioni tattiche e qui infatti ha deciso di alzare ancora di più i ritmi e va avanti con un bel sacrificio di alfiere alfiere f8 mossa forse difficile qui da localizzare proprio non è un sacrificio in cui si va a catturare un pezzo avversario magari un pedone e qui subito sembra indecifrabile l'intento del manco di riga tranne per il fatto che si libera la casa h6 la torre da sola può fare ben poco quindi pare evidente che il suo piano sia quello di attaccare esclusivamente con i pezzi pesanti quindi donna h6 qualunque cosa succede per minacciare lo scaccomato in h7 e questo pedone vedremo che sarà una spia nel fianco nel fianchetto forse dovremmo dire per paul benko che riprende di torre qui cambiava granché donna h6 e si va subito con prepotenza a minacciare lo scaccomato in h7 e qui benko si trova costretto a prendere una decisione molto dolorosa ma comunque la soluzione migliore la partita tra parentesi e gialli sgoccioli cioè torre f7 l'unico modo per evitare il matto non ci sono non c'è altra strada quindi deve subito cedere una torre subendo anche scacco il re viene sempre di più esposto deve prendere in f7 e qui comunque cade il pedone pian piano la partita si è trasformata in una tortura per paul benko l'uragano tal a questo punto si abbatte con una forza incredibile donna per h7 scacco alfiero in g7 quindi rientrare anche se ormai è troppo tardi con tutti i pezzi in difesa tal porta la torre in sesta facendo leva sull'inchiodatura dell'alfiere quindi sempre provocando quasi l'avversario che non può catturare allora qui anche la donna deve subito correre ai pari difensivamente e qui si procede con donna per g6 scacco cade il pedone rene f8 qui benko è veramente disposto a tutto pur di salvare il proprio monarca linea è veramente da brividi a questi livelli e tal è l'esperto delle complicazioni quindi va avanti aggiungendo sempre più attaccanti cavallo in g5 e qui la situazione è già tragica e qui benko alla fine ha scelto una fine rapida in dolore con donna per g5 forse il contesto peggiore in cui andare a catturare un innocuo pedone centrale del bianco perché qui tal pone fine a questa partita con uno spettacolare sacrificio di torre alla trentesima mossa benko abbandona perché c'era il matto forzato in seguito a cui il re era assolutamente paralizzato si poteva soltanto accettare questo sacrificio alfiere prende torre e poi cavallo a cassette scacco matto tutto ben controllato un attacco perfetto contro l'arroco quindi se volete magari migliorare nel tema dell'attacco contro l'arroco direi che tal può essere un ottimo insegnante con i suoi capolavori trentesima mossa e alla fine anche la resistenza di Paul Benko è stata piegata tal ha alzato i ritmi da un momento all'altro e la partita che sembrava comunque equilibrata complice anche alcuni errori difensivi naturalmente di Benko poi pian piano si è trasformata in una bolgia infernale per il grande maestro ungherese questo è tutto ve l'ho detto che nel 59 tal forse abbiamo assistito alla miglior versione del mago di rica come sempre questo video verrà inserito nella playlist delle partite top dei grandi maestri classici e noi ci vediamo al prossimo